E di migrazioni politiche di gestione da parte dell'Europa si è parlato in apertura del Festival Segreti d'Autore a Sessa Cilento. Fabio Forlano. Il fenomeno migratorio, le visioni contrapposte su di esso, le risposte adeguate che richiede in tempi rapidi, temi complessi e quanto mai attuali, analizzati a Sessa Cilento nel primo degli incontri del Festival Segreti d'Autore. Il fenomeno esiste, esisterà sempre, bisogna che gli Stati europei si impegnino, che cooperino, affinché l'integrazione risulti finalmente un campo possibile di azione. Il Parlamento europeo sta esaminando tra non poche difficoltà la nuova proposta della Commissione europea e il nuovo fatto sull'immigrazione, che tuttavia, almeno a mio giudizio, non supera ancora il principio dei paesi di primo approvo. La nostra Costituzione credo che sia la più bella legge fondamentale, proprio perché pone i valori della solidarietà, il valore della libertà, della dignità, che è alla base poi dell'accoglienza e dell'inclusione. Il Festival andrà avanti fino al 10 agosto, con gli incontri, con le visite guidate, con quattro mostre allestite a Palazzo Coppola.